Uè, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi sfide della settimana numero 8 della season numero 9. Sono abbastanza facili, non c'è niente di particolare se non quella che voglio farvi vedere in questo video che ci chiede di visitare tre diverse torri dell'orologio. Allora, come avete visto, abbiamo preso la palletta allo spot che c'è proprio vicino a Borgo Allegro e siamo ovviamente andati a Borgo Allegro per visitare il suo orologio, l'unico che c'è, quindi impossibile da sbagliare. Vi consiglio, ora io non so ragazzi, se la sfida richieda di visitarle in partite diverse, ma non mi risulta. Qualora aveste voglia di buttare una partita, potete farle tutte e tre in un colpo solo. Come vedete, utilizzando sempre la stessa girosfera, sono convinto che abbiate già capito dove si trova il secondo orologio. Ci stiamo dirigendo anche noi, un ottimo modo per visitare anche la mappa in un colpo solo. Lo possiamo già quasi intravedere ragazzi, è proprio là davanti a noi. E' proprio là che svetta, si tratta ovviamente dell'orologio di neo inclinata ragazzi. Lo andiamo velocemente a visitare in modo da far vedere a tutti, se ci fosse ancora qualcuno che non sa dov'è, qual è la posizione corretta. Eccoci arrivati, orologio di neo inclinata proprio qua. Eccolo qua. Completamente perso. L'orologio digitale. E andando avanti ragazzi, potremo o utilizzare i condotti per farci portare nell'ultima location, che ragazzi, ahimè, è un posto molto molto nostalgico. Se volessimo utilizzare un termine corretto, sto parlando ovviamente dell'orologio che si trova a crocevia del Ciarpame ragazzi. L'orologio della vecchia, pinnacoli pendenti, quello che purtroppo è stato abbandonato, un po' disprezzato e lasciato lì in mezzo a tutti i rifiuti di metallo. Per correttezza lo andiamo a vedere, come vedete in pochi secondi, massimo un paio di minuti, si riesce a completare senza nessun problema questa sfida, che quindi ragazzi si può considerare tranquillamente completata. Mentre ci arriviamo ragazzi, vi ricordo che c'è sul canale anche il video delle sfide, quella della 14 giorni d'estate. Ogni giorno carico il tutorial per svolgere al meglio la missione e quindi guadagnare il vostro premio. E tutti i giorni alle 15.05 circa, ma a volte anche prima, il Fortbyte quotidiano. Oramai siamo arrivati alla fine quasi, sia della season che dei Fortbyte. Vi ricordo che con il Fortbyte numero 90 che prenderemo, si sbloccherà la skin Singularity, che non è altro, se non ricordo male, che la skin segreta di questa season. Credo proprio di sì, la skin segreta, con tanto di stili personalizzati che si potranno ottenere cercando gli elmetti in giro per la mappa. C'è un video a riguardo. E arrivando ragazzi quindi all'ultimo orologio, quello di Crocevia, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo tra poco, anzi siamo già in live. Ciao! Noi ci vediamo tra poco, anzi siamo già in live. Noi ci vediamo tra poco, anzi siamo già in live. Noi ci vediamo tra poco, anzi siamo già in live. Noi ci vediamo tra poco, anzi siamo già in live. Noi ci vediamo tra poco, anzi siamo già in live. Noi ci vediamo tra poco, anzi siamo già in live. Noi ci vediamo! Grazie.